I conti sono fatti, il 2011 è il più catastrofico della storia a memoria d'uomo per quanto riguarda i disastri naturali. I conti sono fatti, il 2011 è il più catastrofico della storia a memoria d'uomo per quanto riguarda i disastri naturali. I conti sono fatti, il 2011 è il più catastrofico della storia a memoria d'uomo per quanto riguarda i disastri naturali. I conti sono fatti, il 2011 è il più catastrofico della storia a memoria d'uomo per quanto riguarda i disastri naturali.